Rispettare le regole è fondamentale nella società come nello sport e così in una domenica pomeriggio orfana del calcio di Serie A anche l'Internet Festival gioca la sua partita ovviamente rispettando le regole. Lo fa tirando in ballo la tecnologia a cominciare dal VAR. Questa innovazione tecnologica ha fatto il suo ingresso nei campi di calcio suscitando clamori, applausi, opinioni favorevoli e feroci polemiche. Un dualismo che è figlio di una cultura che forse fatica a cambiare e se lo fa cambia comunque lentamente. Per molti aspetti questa rivoluzione sta incidendo anche sull'emotività di milioni di tifosi, sui giocatori in campo, sugli arbitri ma anche su chi come Filippo Grassia da più di vent'anni ha trasformato la Moviola in una straordinaria narrazione radiofonica. Molte volte il VAR viene chiamato in causa in situazioni in cui l'arbitro in campo dovrebbe decidere per conto suo. Come era stato per la Supercoppa Europea diretta dalla Stefanie Frappart, la quale nei due episodi conclusivi ha deciso per conto suo e dal VAR gli è stato inviato immediatamente un check. Invece in Italia si perde troppo tempo e il calcio non può sopportare proprio per quella sua base di passione, di sentimento che tra il fisco dell'arbitro e la decisione del VAR intercorrono due, tre, quattro, addirittura cinque minuti. Le innovazioni e i cambiamenti di paradigma accompagnano anche l'approccio etico e la narrazione del calcio femminile che nonostante il successo sportivo, sociale e mediatico del Mondiale di Francia è spesso vittima di certi stereotipi di genere. Solitamente la tecnologia va più veloce della cultura, solitamente. In che senso? Nel senso che se penso alla cultura sportiva al femminile, è vero il Mondiale di Francia ha dato una nuova impronta, si respira tutti i giorni, un'impronta che però se paragonata a fuori dall'Italia ancora ci fa vedere in ritardo da questo punto di vista e quindi diciamo che il percorso per essere veramente integrato e completo richiede un cambio di marcia. La tecnologia invece solitamente noi in Italia siamo i promotori di cambiamenti, i promotori di innovazioni e in questo senso è arrivata, oramai non se ne può più fare a meno, non si può ritornare indietro e nell'essere arrivato bisogna sicuramente un po' rivederla per alcuni aspetti perché altrimenti si toglie un po' quello che è la naturalezza dei gesti che ci sono sul campo. Quando parliamo di calcio si sente il bisogno di individuare un termine di paragone, sempre in ambito sportivo ed ecco che spunta il rugby. Il confronto viene sul piano del fair play, sul rispetto delle regole, sul confronto valoriale tra esempi negativi e positivi, ma anche sull'utilizzo della tecnologia che il rugby ha introdotto molto tempo prima. Carlo Damasco che oltre a essere un ex giocatore è anche un ex arbitro internazionale, queste cose le sa bene. Nel rugby è partito prima del calcio, dalla tecnologia, il rapporto alla comunicazione arbitro e arbitro video, insomma l'arbitro regia, è estremamente importante, è estremamente importante, ha aiutato tantissimo, ha ridotto con impatto elevatissimo l'incidenza dell'errore e quindi i tantissimi mezzi a disposizione aiutano certamente alla decisione finale che poi più corretta sia e meglio è per tutti.